Ciao amici, in questo servizio vi dimostrerò quanto possano cambiare nel tempo le persone soprattutto se si parla di politici o movimenti politici mettiamo a confronto i 5 stelle di ieri con i 5 stelle di oggi ieri mai con il PD, oggi sì con il PD ieri ovviamente no alleanze, oggi sì alleanze ieri no euro, oggi sì euro ieri assolutamente no mess, oggi sì mess ieri no con gli indagati, oggi a braccetto con gli indagati ieri siamo contrari alla TAV, oggi sì TAV ieri no TAP, oggi sì TAP ieri no ILVA, oggi sì ILVA ieri noi senza TV, oggi sono sempre in TV ieri no agli F35, oggi ovviamente sì agli F35 ieri assolutamente contrari ai tre mandati, oggi almeno tre mandati ieri no all'elettrosmog, oggi e vai 5G ieri trasmetteremo in diretta dal Parlamento, oggi ovviamente niente streaming ieri sì Impeachment, oggi ovviamente no Impeachment questa amici è la dimostrazione di quanto la politica, soprattutto il potere o la poltrona, possa cambiare le persone e i movimenti politici condividete e commentate